Salve Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono delle novità dal fronte. Andiamo subito nel settore di Kostantinivka e Vuledar. Qua abbiamo diversi attacchi da parte delle forze armate russe che cominciano sulla cittadina, sul villaggio, sul paese di Kostantinivka e poi scendono lungo tutta quella che è l'area toccata dalla 0532. Questa strada che parte da Kostantinivka e arriva verso sud a Vuledar. I russi cosa vogliono fare? Vogliono cercare di tagliare la logistica ucraina verso questo paese. I russi l'anno scorso hanno tentato di attaccare da Pavlivka frontalmente per prendere Vuledar, ma non ci sono riusciti. Quindi stanno cercando in diversi punti di prendere una sezione di questa strada. Iniziamo da nord. Qua i russi stanno cercando di attaccare in forze, ma gli ucraini sono veramente messi bene a livello di artiglieria, di droni e quindi riescono a far pagare un prezzo considerevole alle avanzate russe in termini di equipaggiamento e di uomini. Ribadisco quello che ho detto l'altra volta, non sappiamo se i russi anche con questo attacco siano riusciti o meno a scaricare, a sbarcare degli uomini nei soborghi meridionali di questa località. Lo vedremo solamente nei prossimi giorni. Per ora sappiamo attraverso le geolocalizzazioni questa e anche il famoso attacco dei 60 corazzati verso Kostantinivka che molti mezzi sono stati distrutti dagli ucraini. Quest'ultimo attacco ha visto meno mezzi coinvolti, però ecco i russi continuano ad attaccare in forze Kostantinivka, gli ucraini cercano di fermarli. Siccome su Kostantinivka la situazione è questa, i russi stanno cercando di attaccare con maggiori risultati la 0532 attraverso i campi. C'è da dire che gli ucraini hanno una fortificazione, ve l'ho individuata qua in questo punto, in questa sezione della strada. Come potete vedere ci sono delle trincee, diverse trincee in questo punto. I russi stanno cercando di attaccare verso questa direzione. Abbiamo un attacco da parte di fanteria, pochi mezzi devo dire la verità, sia da questa parte che da quest'altra. I russi stanno cercando di sgombrare delle posizioni ucraine, stanno avanzando, quindi stanno riuscendo ad avvicinarsi, sono in certi punti veramente a un chilometro abbondante dalla 0532. Vedremo, probabilmente è più facile che arrivino alla 0532 dai campi piuttosto che da Kostantinivka. Kostantinivka verrà comunque attaccata dai russi sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, però sarà un'operazione che sicuramente richiederà un po' di tempo. È probabile, ribadisco, che i russi riescano ad arrivare alla 0532 dai campi, perché sono meno presidiati di questa cittadina, di questa località. Detto questo andiamo più a nord, andiamo nel settore del saliente di Ucceretine. Qua abbiamo diverse geolocalizzazioni da parte russa, abbiamo la geolocalizzazione che riguarda la presa ufficiale, diciamo, di Vovce da parte delle forze armate russe. I russi stanno spingendo a sud della linea della ferrovia, questa linea come potete vedere sulla mappa, e stanno minacciando il villaggio di Vesele. Sappiamo che i russi in questo momento stanno combattendo contro gli ucraini per prendere questa località, questo paese. Non solo, i russi adesso si sarebbero anche spinti verso sud nelle vicinanze di Jelanne, un paese di dimensioni più considerevoli rispetto a quelli che abbiamo citato, Vovce, Vesele e via dicendo. Quindi i russi stanno cercando di allargare questa direttrice d'avanzata che si fa sempre più profonda. Il piano qua è quello che ho già detto, oltre ovviamente a dirigersi verso ovest e minacciare Pokrovsk, che comunque rimane lontana dai russi, i russi qua immediatamente cosa vogliono fare? Vogliono cercare di prendere, di fare una manovra cerchiante, avvolgente, andando da nord verso sud, prendere Jelanne e poi arrivare alle spalle di tutto questo complesso difensivo. Qua, come potete vedere, ci sono delle trincee, c'è un sistema difensivo preparato in settimane e settimane dagli ucraini, qua c'è il Fiumiciattolo, un corso d'acqua, il Vovcia, ci sono altre fortificazioni. Insomma, qua per i russi sarebbe preferibile attaccare da nord verso sud e arrivare poi appunto da ovest a prendere alle spalle tutta questa linea di difesa ucraina. La situazione sul saliente di Oceretine, continuo a dirvelo, è preoccupante per le forze armate ucraine, non tanto perché i russi domani arriveranno su Pokrovsk, lo è per il ritmo di avanzata da parte russa, che è un ritmo diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora o comunque negli ultimi mesi, nell'ultimo anno di guerra. Se gli ucraini non riescono a stabilizzare, in parte come avevano fatto subito dopo la caduta di Avdivka, su Orlivka, Semenivka, Berdish, i russi potrebbero comunque conseguire dei successi non solo tattici, ma anche operativi. Quindi magari raggiungere, ribadisco, non Pokrovsk, ma nell'immediato, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, pochi mesi, Selidov, per esempio, che rimane più o meno a 10-11 km dalla linea del fronte, che è un centro importante per la logistica delle forze armate ucraine. E non solo, poi vi ricordo che c'è sempre l'autostrada Pokrovsk-Kostantinivka, che rimane l'obiettivo con implicazioni operative più alla portata per le forze armate russe. Quindi ecco, il saliente di Oceretine non è magari il punto più importante del fronte oggigiorno, c'è Ciasi Viar che tra poco andiamo a trattare, perché c'è una notizia piuttosto importante, ma rimane comunque un'area del fronte dove potrebbero esserci delle sorprese nelle prossime settimane. Detto questo, andiamo più a nord, andiamo su Ciasi Viar. Qua abbiamo delle notizie piuttosto importanti. Come potete vedere, non ho messo il classico riquadro rosso nel caso di conquiste confermate da parte russa. Non abbiamo ancora geolocalizzazioni, quindi non l'ho messo, però secondo diverse fonti, quasi tutte russe, i russi sarebbero riusciti ad arrivare nella parte occidentale di Ciasi Viar, e più in particolare nel microdistretto cosiddetto Novi. A dire il vero, il microdistretto Novi riguarda questa parte, diciamo più meridionale, però ecco, per facilitare l'individuazione lo chiamerò microdistretto Novi. I russi cosa avrebbero fatto? Ribadisco, aspettiamo conferme, certezze, anche da parte ucraina. I russi sarebbero riusciti a superare il canale in questa parte. Come potete vedere qua il canale è un corso d'acqua, fatto e finito. Qua però, verso poi Calinina, ci sono dei tubi. Li abbiamo visti in qualche geolocalizzazione qualche settimana fa. Bene, i russi sarebbero riusciti ad attraversare in un punto in questa zona, e poi sarebbero scesi verso sud a prendere, ad occupare le prime case veramente vicine al canale. Quindi i russi sarebbero nella parte occidentale. Bisogna capire cosa è successo a questo sistema difensivo. Qua ovviamente c'erano delle trincee sul canale, quale possiamo vedere anche dalla nostra mappa, come potete vedere. Bisogna capire se gli ucraini le hanno abbandonate o sono in corso dei combattimenti. Non abbiamo ancora molto chiara la situazione. La situazione è in divenire, stiamo aspettando geolocalizzazioni, ma ritenevo giusto informarvi di voci che si stanno sempre più diffondendo. Bisogna capire adesso i russi, qualora fosse confermata questa notizia, come attaccheranno la parte occidentale. Come potete vedere Chasiviar si sviluppa da nord verso sud, questa è tutta Chasiviar. Gli ucraini devono stare attenti a non fare quello che hanno fatto su Avdivka e in parte, solo in parte, a Bakhmut. E cioè devono stare attenti a non concedere, in questo caso, il fianco nord. I russi cosa potrebbero fare? Potrebbero attaccare da Kalinina, cercare di sfondare e occupare tutta questa zona nord. A quel punto scendere poi verso sud e quindi tagliare i rifornimenti agli ucraini. Gli ucraini che starebbero combattendo in quel momento nella parte centrale, centrale e meridionale. Sarebbe una situazione veramente critica. Qua, come potete vedere, c'è la ferrovia, ci sono comunque delle vie che vanno verso occidente, che arrivano nei punti, villaggi, Kostantinivka, più su, poi si va verso Kramatorsk, Sloviansk. Insomma, i russi potrebbero minacciare la logistica e quindi minacciare la cittadina in questo modo. Gli ucraini devono cercare di impedirlo, sarà una battaglia, questo è sicuro, ve lo do per certo, non facile. Non facile per i russi, non facile per gli ucraini. Qua, in questo punto del fronte, Sierski si gioca tanto. Il comandante in capo delle forze armate ucraine si gioca veramente tanto. È una cittadina, lo sanno entrambe le parti, da cui può passare molto di questa guerra. Io lo ribadisco, Ciasiviar è la porta d'ingresso per le città, per il complesso tripartito del Donbass, Kostantinivka in primis e poi si va verso nord, Kramatorsk e Sloviansk. Con Ciasiviar i russi possono iniziare ad avvicinarsi a Kostantinivka e quindi poi salire verso nord, evitando il complesso difensivo del 2014. Il complesso difensivo che ha impedito i russi all'inizio della guerra, comunque anche negli anni scorsi, di provare anche solo a minacciare seriamente e realisticamente queste due città. Quindi è una cittadina, è un obiettivo importante. Ciasiviar si trova su una collina che domina tutta l'area, domina Bakhmut e domina ovviamente Kostantinivka. Qua c'è il concentramento di forze più significativo delle forze armate ucraine. Dall'altra parte i russi hanno alcune tra le migliori unità di cui possono disporre. La 98esima divisione avviotrasportata, la 200esima brigata e via dicendo. Quindi veramente sarà uno scontro importante, decisivo, ma soprattutto non facile. Vedremo se ci saranno aggiornamenti. Per oggi è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.